Salve a tutti carissimi cinefile carissimi cinefile ben ritrovati in questo nuovo video dunque oggi voglio parlarvi di un film che sono andato a vedere recentemente al cinema è firmato dal regista e co-sceneggiatore Gianni Amelio ed è intitolato Il Signore delle Formiche premetto che farò degli spoiler quindi se ancora non avete visto il film e non volete sapere nulla in anticipo tornate in un secondo momento vi consiglio comunque di andare a vedere il film al cinema perché oltre ad essere comunque un prodotto ben fatto insomma esteticamente lo reputo apprezzabile è un film che nonostante abbia degli aspetti che sono come minimo discutibili soprattutto sul piano politico però ha il merito di mettere in luce una vicenda che riguarda la storia del novecento italiano è una vicenda piuttosto infame devo dire è una macchia della storia italiana che non so quanti ne siano a conoscenza è un episodio che per la sua gravità proprio non merita di finire nel dimenticatoio la storia che viene raccontata è di grande attualità il film ha sicuramente un messaggio di critica una forza anche morale se vogliamo molto forte e per questo insomma merita di essere visto in sala la merita che il pubblico risponda positivamente all'arrivo di questa pellicola nei cinema la storia trattata da questo film è ambientata tra il 1958-59 e il 1968 diciamo che sono circa dieci anni di storie del nostro paese visti attraverso il punto di vista del protagonista della vicenda che è Aldo Braibanti Aldo Braibanti è stato un intellettuale poliedrico che ha coltivato i suoi interessi in molti ambiti nella poesia, nella drammaturgia lui è stato uno scrittore di opere teatrali è stato anche un appassionato mirmecologo cioè uno studioso delle formiche ecco perché poi c'è questo titolo il signore delle formiche ed è stato anche un politico molto noto molto in vista durante la seconda guerra mondiale è stato un membro della resistenza quindi è stato attivo come partigiano e poi nello scenario politico del dopoguerra è stato un dirigente del partito comunista italiano quindi un personaggio abbastanza rilevante nella scena pubblica italiana che ad un certo momento nel 1966 se non vado errato fu oggetto di un processo la cui conclusione si è verificata nel 1968 in quel periodo scoppiò il cosiddetto caso Braibanti di che cosa era accusato? era stato accusato di plagio quindi nei suoi confronti fu applicato l'articolo 603 del codice penale italiano che al tempo era il codice Rocco un corpus di articoli che era stato realizzato al tempo della dittatura fascista e che in Italia ha continuato ad essere utilizzato fino al 1988 e all'interno di questo cosiddetto codice Rocco era presente appunto questo articolo del 603 dove si parlava del delitto di plagio e Aldo Braibanti era stato accusato di aver plagiato un ragazzo più giovane di lui di averlo quindi corrotto intellettualmente parlando ma anche dal punto di vista fisico perché Aldo Braibanti era un noto omosessuale e quindi la relazione gay fra queste due persone non era assolutamente accettata dalla morale comune del tempo il reato di plagio in quel caso fu utilizzato non tanto per difendere le vittime dal suo possibile influsso malefico e deviante ma con quel reato si cercò di mettere alla berlina quel tipo di relazione affettiva amorosa fra due persone che era considerata contro natura, abominevole il film ruota intorno a questa vicenda le primissime immagini ci fanno vedere appunto questi due personaggi Braibanti da una parte e il ragazzo Ettore dall'altra il nome del discepolo barra amante di Braibanti è stato cambiato ora non mi ricordo come si chiamava il 23enne che per davvero stava con Braibanti ma insomma il film ha deciso di cambiare il nome di questo personaggio va bene vediamo che loro vivono a Roma e ad un certo punto arriva la famiglia di Ettore il fratello maggiore e la madre che lo rapiscono e da lì parte tutta la vicenda Ettore viene portato in una clinica psichiatrica quindi in un manicomio perché al tempo purtroppo erano sempre aperti quei luoghi veramente atroci e di tortura perché poi c'è anche un atto di accusa feroce viene fatto da parte del film nei confronti di quegli istituti psichiatrici che alla fine sono stati chiusi ma è un atto di accusa anche nei confronti di chi magari ancora oggi pensa che dovrebbero ritornare ad essere aperti i manicomi che certi metodi dovrebbero essere di nuovo riutilizzati nei confronti dei cosiddetti malati di mente soprattutto è un atto di accusa nei confronti di una società che creava questi luoghi oscuri e tremendi non per curare effettivamente i pazienti per farli stare meglio ma era un modo per distruggere le persone Ettore dall'essere un giovane di belle speranze di prospettive un artista perché questo lui sentiva di essere lui aveva una grande passione per la pittura si sentiva proprio bene quando entrava in contatto con l'arte con chi ne sapeva di arte perché Aldo Braivanti è una persona colta e gli ha rischiarato la mente su molte cose su molte questioni potremmo dire alte quindi filosofia letteratura arte in generale eccetera dopo che però è stato internato ripetutamente negli istituti psichiatrici Ettore ne esce come una persona completamente devastata e quindi dicevo la prima parte ci mostra appunto il rapporto fra questi due personaggi e un terzo personaggio in realtà che ha un punto di vista diciamo più esterno inizialmente è un personaggio che guarda da fuori questi due perché il film si apre con la festa dell'unità quando ancora c'era la festa dell'unità abbiamo questi tre personaggi quindi Braivanti Ettore e Ennio Scribani che è interpretato da Elio Germano lui scopriamo poi essere un giornalista dell'unità guarda dall'esterno questa coppia questi due personaggi appunto Braivanti interpretato da un bravissimo Luigi Locascio e Ettore Tagliaferri interpretato da un Leonardo Maltese a dir poco sorprendente io non conoscevo assolutamente questo attore ma l'ho trovato veramente bravo 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 quindi l'inizio del film ha questa introduzione con questi tre personaggi il focus si concentra su Aldo e Ettore come si conoscono qual era l'attività di Aldo Braivanti quando ancora stava in Emilia se non ricordo male lui stava a Castellarquato comunque in quelle zone lì ci viene descritta la sua opera nel circolo intellettuale aperto più che altro ai giovani dove si conosceva insomma la letteratura quella classica ma anche quella contemporanea dove si faceva appunto teatro Aldo Braivanti insieme a questi ragazzi metteva in scena le opere che lui stesso scriveva quindi vediamo che c'è questa sorta di comunità dove abbiamo al centro proprio questa sorta di maestro il cosiddetto professore appunto Braivanti era noto anche con questo appellativo e i discepoli quindi una cosa che in un certo senso può richiamare un po' la Grecia antica no? una sorta di novello Socrate che sta in contatto con i giovani e li educa poi Braivanti come Socrate finirà per essere accusato di essere uno che corrompe i giovani appunto e poi nel corso del processo Braivanti fa questo stesso parallelismo fa un accostamento tra se stesso e Socrate ma decide di rimarcare una distinzione una divisione netta fra lui e il grande pensatore atenese Socrate ha accettato di bere la cicuta perché riteneva che le leggi dovessero essere sempre rispettate invece Braivanti no dice io non sono d'accordo perché quando le leggi sono ingiuste non devono essere rispettate ma devono essere cambiate devono essere ribaltate e voi state applicando oggi su di me una legge profondamente ingiusta e tutto ciò mi fa paura mi spaventa però qui siamo nella fase successiva del film ritornando un attimo alla prima parte quindi descrizione di questo ambiente eccetera descrizione anche del personaggio e Braivanti secondo me è il soggetto più tridimensionale meglio sfaccettato meglio descritto all'interno del film è una persona estremamente combattuta è una persona dal carattere spigoloso perché di certo non è facile trattare con lui non è immune a quella tipica arroganza che può cogliere l'intellettuale che è consapevole della sua cultura che è molto vasta che è nettamente superiore rispetto alla media e tutto questo ti può portare ad avere degli atteggiamenti che non sono proprio simpatici e anche il suo modo di porsi certe volte con questi ragazzi il suo essere duro severo è un qualcosa che non porta ad avere una empatia immediata nei confronti del personaggio però si capisce che comunque questo è dovuto sia al carattere ma anche alle esperienze sue personali alle esperienze pregresse che lui ha fatto al tempo del fascismo al tempo della resistenza sono tutte esperienze che lo hanno indurito non c'è dubbio e tutto ciò lo ha portato ad avere questo modo di comportarsi a questo modo di relazionarsi con gli altri che non sempre ispira simpatia anche se comunque grazie proprio a queste spigolosità quando emerge l'aspetto più gentile più mite più tenero quasi fanciullesco nella sua capacità di stupirsi di fronte anche per esempio alla natura alle meraviglie della natura per esempio le formiche per Braibanti sono una meraviglia della natura anche quando compone poesie d'amore per Ettore vediamo proprio che il personaggio assume una luce completamente diversa quindi Braibanti in questo film ci viene mostrato veramente a 360 gradi io non l'ho conosciuto ma insomma l'impressione che mi ha dato la scrittura di questo personaggio è questa cioè di un soggetto che non viene mostrato in un modo eccessivamente positivo ecco non è un personaggio edulcorato lui è sicuramente una vittima ma non viene mostrato come un agnellino sarebbe stato troppo semplice fare un film di questo tipo di denuncia nei confronti dell'intolleranza nei confronti dell'omofobia e mostrare il protagonista come una persona indifesa come un debole come un buono assoluto come un puro il film è anche crudo in certi momenti quando deve parlare anche di quelle che sono le sue pulsioni sessuali quindi il film non omette niente da questo punto di vista e credo che abbia centrato l'obiettivo e tutto questo noi lo abbiamo specialmente nella prima parte prima parte che descrive anche quello che è il contesto sociale dove agisce Braibanti ma anche dove si trova a vivere il giovane Ettore Ettore Tagliaferri è un ragazzo maggiorenne di una ventina d'anni più o meno che viene portato nella cerchia di Braibanti dal fratello da Riccardo il quale ha un rapporto secondo me abbastanza ambiguo nei confronti di Braibanti cioè lo contesta ma allo stesso tempo ne ricerca l'approvazione sembra quasi che ci sia da parte di Riccardo una sorta di tensione omosessuale nascosta verso il maestro e forse c'è anche una gelosia una forte gelosia nei confronti di Ettore il quale invece poi riesce ad avvicinarsi e a farsi apprezzare da Braibanti probabilmente Braibanti riesce a vedere in lui ciò che Riccardo vorrebbe essere per il maestro e che invece non riesce mai ad essere Ettore vive in una famiglia estremamente conservatrice estremamente chiusa una famiglia che non ripudia assolutamente il fascismo è una famiglia fatta di personaggi grigi e retrivi è un contesto estremamente opprimente castrante e di conseguenza si capisce bene perché Ettore si è rimasto affascinato dalle lezioni dall'incontro con Braibanti lo dice anche lui stesso al processo mi sentivo libero mi sentivo bene quando Aldo Braibanti mi parlava di arte di letteratura mi stava dando un'educazione una cultura che i miei genitori non avrebbero mai potuto darmi e attraverso questa cultura il ragazzo assapora la libertà ecco riesce finalmente a sentirsi libero da tutti quei legacci che lo hanno senza dubbio attanagliato per tutto il periodo in cui è stato in casa dei suoi genitori con il fratello e la prima parte si conclude quindi con la decisione dei due cioè di Braibanti e del giovane Tagliaferri di andare via dall'Emilia Romagna e di recarsi a Roma e di vivere insieme laggiù ad un certo momento abbiamo uno stacconetto dove comincia la seconda parte del film quindi la prima parte non è altro che un lungo lunghissimo flashback il tutto viene visto attraverso il ricordo di Aldo Braibanti nella seconda parte invece abbiamo l'arresto di Braibanti e il processo a suo carico ecco a questo punto il montaggio del film fa uno stacconetto che proprio spacca in due la pellicola e inizia la parte del dramma processuale questa scelta secondo me è molto efficace quella di fare questo taglio piuttosto netto e violento perché proprio ci dà l'idea di come una fase della vita di questi due personaggi cioè di Aldo e di Ettore sia stata interrotta bruscamente brutalmente questi due personaggi fino a quel momento hanno vissuto il loro amore certo non in modo completamente libero a causa dei pregiudizi del tempo della società eccetera ma tutto sommato nel loro rapporto nato sviluppatosi spontaneamente hanno potuto vivere dei momenti felici e liberi ecco con l'arrivo della denuncia dell'arresto e del processo tutto cambia tutto viene stravolto in modo traumatico e nella seconda parte abbiamo appunto tutta la vicenda processuale il film mette in evidenza soprattutto attraverso l'introduzione del punto di vista del giornalista Scribani che guarda dall'esterno questo processo ne racconta i momenti più importanti e ne mette in evidenza gli aspetti più assurdi grotteschi caricaturali ci si rende conto ben presto che è una scusa quella di utilizzare il reato di plagio nei confronti di Aldo Braibanti si vuole mettere alla berlina la sua omosessualità si fa riferimento alle campagne di stampa denigratorie messe in atto dai giornali dalle riviste dagli ambienti di destra che sfruttano questa vicenda anche per attaccare politicamente il partito comunista i comunisti l'ideologia comunista e così via il film non manca anche di puntare veramente il dito nei confronti delle istituzioni anche perché fin tanto che si tratta della campagna diffamatoria che sicuramente è qualcosa di sbagliato ma fin tanto che si tratta di schermaglia di natura politica è un po' il gioco delle parti sporco quanto vi pare ma diciamo che le accuse le prese in giro le battute anche di basso livello sono qualcosa che ancora ancora ci possono stare sono comprensibili diciamola così moralmente basse ma comprensibili ma quando queste accuse e queste insinuazioni questi insulti proprio arrivano addirittura dal pubblico ministero e dal giudice che è interpretato da Alberto Cracco che già avevo visto per esempio nel Divo di Paolo Sorrentino nei panni del prete che si incontra spesso con Andreotti nel corso del film eccetera quando addirittura le offese le basse insinuazioni vengono fatte da rappresentanti delle istituzioni ecco si capisce che tutto è marcio tutta l'impalcatura statale italiana è afflitta inquinata dal cancro dell'intolleranza dal cancro del pregiudizio e questi personaggi istituzionali sposano del tutto il punto di vista dei membri della famiglia di Ettore la madre il fratello maggiore che appunto si dimostrano portatori delle ideologie più più retrive e assurde che si possono trovare viene detto chiaramente che l'omosessualità come il comunismo sono delle malattie da cui si deve in qualche modo guarire ci deve essere una cura per queste cose che hanno a che fare anche con il demoniaco quindi ci sono anche aspetti religiosi piuttosto scuri che sconfinano anche nella superstizione insomma un armamentario ideologico veramente bieco e meschino che però è pervasivo però è condiviso e alla fine conduce ad una condanna assurda qui spoiler ma insomma la vicenda di Braibanti è una vicenda la cui conclusione diciamo è nota quindi vi svelo poco nel fare questo spoiler però alla fine Braibanti viene condannato quindi questa persona viene sostanzialmente privata della propria libertà semplicemente perché si è permesso di amare un altro uomo un altro giovane uomo e questa è una cosa assolutamente abominevole tornando un attimo sul discorso della pervasività del pregiudizio eccetera è interessante vedere che il film non fa sconti neanche alla stessa parte politica di cui fa parte Braibanti e di cui fa parte anche Scribani perché Scribani ricordo è un cronista dell'unità e Braibanti è un intellettuale legato al partito comunista il pregiudizio nei confronti degli omosessuali è un qualcosa che attanaglia anche i cosiddetti compagni nello specifico lo vediamo sia per quanto riguarda il direttore del giornale che è interpretato da Giovanni Visentin e nella figura del giovane avvocato che è diciamo il ragazzo di Graziella la cugina del giornalista Scribani ecco nel caso del direttore dell'unità e anche dei membri del partito comunista sovietico che poi vengono a Roma per fare una conferenza a cui partecipa il direttore dell'unità tutti questi personaggi per quanto si dichiarino comunisti fautori dei diritti umani eccetera però di fronte ad un episodio che vede coinvolto un uomo sessuale ecco che si tirano indietro ecco che mostrano quella che è la vera faccia del pregiudizio mostrano la loro vera forma mentis che è fatta appunto di intolleranza eccetera quindi è come a dire che l'ideologia comunista non ha fatto breccia nella mente di queste persone parafrasando il discorso che fa l'alto prelato a michael corleone in padrino parte terza quando c'è quella scena molto significativa della pietra che lui raccoglie da una fontana la spacca e esternamente la pietra è bagnata ma dentro invece è perfettamente pulita quello che poi diventerà il futuro papa dice a michael corleone ecco questa pietra è come la gente che si è trovata immersa nel cristianesimo ma i loro cuori non sono stati toccati dalla religione cristiana sono rimasti asciutti il cristianesimo non è penetrato in loro ecco potremmo dire un po' la stessa cosa di questi personaggi il comunismo è un'ideologia che li riveste ma non li ha cambiati nel profondo e questa cosa viene esplicitata nell'atteggiamento piuttosto stile del direttore del giornale nei confronti di alcuni articoli di alcuni passaggi degli articoli di Scribani e però la cosa qui ha un po' del problematico in realtà perché al tempo l'unità si schierò nettamente dalla parte di Braivanti addirittura il direttore dell'unità del tempo che si chiamava Maurizio Ferrara tra parentesi il padre di Giuliano Ferrara quel Giuliano Ferrara avete capito bene lasciamo perdere che osiamo stendiamo un velo pietoso su come la cosa si è evoluta o meglio dovremmo dire involuta passare da Maurizio Ferrara a Giuliano Ferrara è un bel salto all'indietro comunque dicevo il direttore Maurizio Ferrara al tempo si schierò nettamente dalla parte di Braivanti e anzi nel momento in cui ci fu la sentenza di condanna verso Braivanti Ferrara scrisse un editoriale di fuoco contro la sentenza contro il collegio giudicante e contro la morale comune che metteva la berlina a una persona per i suoi gusti sessuali e magari invece tasceva sulle cose veramente scandalose che magari avevano a che fare con la corruzione e così via quindi non è vera questa cosa che viene fatta vedere da Amelio cioè è una forzatura piuttosto evidente e che insomma costituisce un difetto abbastanza grosso del film a mio avviso ci sono un paio di prese di posizione politiche da parte di Amelio che secondo me sono un po' forzate e poco veritiere poco oneste questa è una di quelle cioè mostrare che Scribani è solo contro tutti nella redazione del giornale quando invece nella realtà non è stato così e anche quando c'è la scena della protesta guidata da Graziella davanti al palazzo di giustizia contro il processo a Braibanti ad un certo punto vediamo quello che è il suo ragazzo l'avvocato calabrese violentemente omofobo che ad un certo punto dice le proteste si devono fare per il Vietnam non per gli invertiti messa così la scena non avrebbe alcun problema perché questo ragazzo si dichiara compagno comunista però odia gli omosessuali tra l'altro lui questa cosa l'aveva esternata a Scribani che si offende e se ne va via nel momento in cui si erano conosciuti a casa di Graziella l'avvocato aveva detto che per lui gli invertiti o si curano o si ammazzano e a questa cosa abominevole Scribani prende e se ne va e quando si rincontrano appunto lì al palazzo di giustizia l'avvocato calabrese dice oh ma a me certe cose guarda mi dispiace se ti sei ufficiale ma certe cose proprio mi fanno schifo e vedendo che Scribani dimostra ancora più disprezzo nei suoi confronti a certo punto l'avvocato dice cioè tu ce l'hai con me perché sono meridionale quindi lui si sente discriminato eppure è uno che fortemente discrimina gli altri quindi c'è anche questo aspetto di grande contraddizione grande ipocrisia e idiozia aggiungo da parte di questo personaggio ma non solo proprio dei conservatori da parte degli intolleranti eccetera loro vogliono discriminare senza essere discriminati cioè è una cosa pazzesca e ritornando alla scena va tutto bene vediamo che questo qui fa questa esternazione bescera il problema è che all'interno di questa scena quando ci viene mostrata la protesta e Graziella che arringa la folla eccetera abbiamo questo movimento di macchina da sinistra verso destra che ci mostra il volto di Emma Bonino di oggi volto di Emma Bonino di oggi e lì devo confessare ho avuto un po' un crollo perché ho detto no ma perché ci ha dovuto mettere Emma Bonino no ti prego perché perché e io ho capito che cosa voleva fare il buon Gianni Amerio ha voluto mettere il volto di una figura politica che ha la nomea di essersi sempre battuta e per carità lo ha fatto di essersi sempre battuta per i diritti umani per la parità di genere per l'aborto per gli omosessuali per i diritti dei carcerati eccetera 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 e per carità ha senso che ci sia questa associazione il problema è che nella stessa scena c'è appunto il personaggio dell'avvocato che dice le proteste bisogna farle per il Vietnam non per gli invertiti ora lui fa accenno ad una guerra alla guerra del Vietnam perfetto il fatto è che in quella stessa scena è mostrato l'abonino ora l'abonino non è soltanto quella che si è battuta per i diritti eccetera 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 ma è anche un esponente politico che ha fortemente appoggiato la guerra in Afghanistan e in Iraq ok quindi mi chiedo ma che senso ha far vedere il volto di un politico di oggi che da un lato si è battuto per i diritti umani ma dall'altro poi ha anche appoggiato la guerra in Afghanistan e in Iraq è arrivata addirittura ad insinuare il sospetto che a causa di certe sue esternazioni il buon Gino Strada fosse una sorta di burattino dei talebani quindi stiamo parlando di una persona che appoggiando la guerra ha negato i diritti di altri il diritto alla vita che è il più fondamentale quindi se tu metti Emma Bonino in quella scena secondo me ti fai un po' un autogol dimostri di essere dal punto di vista politico come minimo un ingenuo anche in questo film come era capitato per esempio nella opera precedente Mamet Amelio che è anche il co-sceneggiatore della pellicola in questione dimostra di essere piuttosto disinvolto mettiamola così nell'utilizzo della storia e nella sua modificazione mi sembra proprio che Amelio abbia voluto fare delle forzature per piegare la realtà storica a quella che è la sua ideologia è chiaro che lui ha una certa avversità nei confronti del partito comunista dell'ideologia comunista dell'ambiente comunista eccetera ed è chiaro che lui ha questa tendenza a semplificare molto la figura di certi personaggi politici che dal punto di vista del senso comune o di un certo senso comune vengono percepiti come personaggi politici importanti che hanno una statura morale forte così forte da poter diventare proprio dei simboli buoni virtuosi ecco questo è un tipo di operazione che troviamo all'interno del film e che purtroppo ne fa scadere un bel po' la qualità almeno per me poi per carità il film ha molti aspetti positivi per esempio ho già elogiato la recitazione degli attori ma anche la regia del film secondo me è una regia molto buona ci sono dei primi piani molto intensi ci sono dei long take fatti proprio sfruttando questi primi piani sfruttando l'abilità degli attori nel rendere molto coinvolgente molto forte il momento emotivo di certi passaggi del film per esempio mi è rimasto molto impresso l'interrogatorio che viene fatto in aula al giovane Ettore lì veramente Leonardo Maltese ha fatto qualcosa di apprezzabilissimo quello è un è un long take proprio basato sul suo volto sulla sua espressività che veramente rende benissimo l'idea di questo ragazzo sciupato rovinato da questa società intollerante bigotta e nonostante tutto lui ha la forza in aula di affermare quella che è una banalità cioè Aldo non ha fatto niente noi ci siamo voluti bene e voi ci state processando per qualcosa che assolutamente non ha nulla di sbagliato l'amore non può essere processato amare non è un reato oppure certe battute sferzanti messi in bocca scribani i momenti di incontro fra lui e Aldo Braibanti anche in carcere ci sono dei campi e controcampi molto intensi giustamente entrambi i personaggi vengono mostrati al di là delle sbarre cioè nel senso che ogni volta che abbiamo il cambio di inquadratura c'è sempre questa barriera c'è sempre questo ostacolo cioè le sbarre che separano i due personaggi e sicuramente questo ha a che fare con la condizione di cattività di Aldo Braibanti ma è una cosa che in realtà va a finire addosso anche allo stesso Scribani perché poi ad un certo punto scopriamo che pure lui pure il giornalista è un uomo sessuale quindi anche lui in realtà è una vittima del sistema anche lui è ingabbiato all'interno di questo carcere invisibile pervasivo che la società italiana del tempo costruisce addosso intorno a quelli che vengono considerati mostruosamente diversi e ci sono anche momenti di grande dolcezza di grande intensità emotiva non solo quando ci sono i due personaggi di Aldo e Ettore ma anche per esempio il rapporto di Braibanti con la madre con Susanna che se non ricordo male è lo stesso nome che ha la mamma di Pierpaolo Pasolini probabilmente ci sono anche delle forti assonanze tra il personaggio di Braibanti in questo film e il personaggio di Pasolini nella realtà ma c'è quel momento in cui Braibanti sta raccogliendo le sue cose sta facendo le valigie per andarsene a Roma con Ettore e vediamo che lui dice alla madre la guarda intensamente è taciturno in quel momento e la madre gli chiede che cosa ha e lui risponde è che ti lascio sola ecco quella è la frase più bella di tutto il film è il momento più toccante anche quindi il film vive anche di queste cose vive anche di sensazioni e sono istanti che contribuiscono a caratterizzare bene i personaggi che contribuiscono a gettare luce anche sugli aspetti più dolci e gentili di questi soggetti ed anche attraverso questo l'atto di denuncia che viene fatto dall'opera nei confronti di questa vergogna che si chiama omofobia diventa ancora più forte diventa ancora più tagliente e la conclusione della pellicola è molto amara perché vediamo che la mamma di Braivanti muore disgraziatamente muore quando lui è in carcere perché appunto viene condannato e lui sotto scorta ritorna al paese vede la madre morta rincontra alcuni dei suoi conoscenti lì a Castellarquato e poi ritrova anche Ettore il ragazzo sta faticosamente rifacendosi una vita sta collaborando con una compagnia teatrale quello che si capisce lui è uno che siccome ha sempre avuto passione per la pittura dipinge i fondali le scenografie del teatro e però si vede che insomma il ragazzo è stato comunque segnato per sempre da questa vicenda i due si rincontrano e si salutano con una poesia quindi in un certo senso c'è una sorta di circolarità se vogliamo però una circolarità rotta spezzata irrimediabilmente interrotta perché all'inizio quando i due vengono presentati si stanno dedicando delle poesie e anche qui il loro commiato è una poesia una poesia che il nostro Ettore ha recuperato dal repertorio giovanile di Aldo Braibanti questo è sicuramente un momento molto toccante c'è la pioggia il tramonto eccetera la cosa bella che viene detta da Braibanti è che questa poesia non è più mia è tua appartiene a te quindi è un po' come l'opera d'arte che viene fatta dall'artista e che diventa proprietà del pubblico di chi ne fruisce quindi un'idea molto molto bella se vogliamo dell'arte che emerge dal film ma nel caso di questi due personaggi è il loro legame eterno quello della poesia quello del tocco spirituale che li lega che li accomuna e quindi anche se poi i due non si incontreranno mai più però dal punto di vista spirituale saranno legati per sempre ci sono le didascalie conclusive dove viene detto che Aldo e Ettore non si sono più rincontrati e la didascalia ci dice anche che Braibanti ha scontato due anni di carcere il processo ha fatto tutti i gradi di giudizio era partito con nove anni in primo grado e poi questi in appello sono diventati quattro e alla fine per i suoi meriti di partigiano gliene sono stati scontati due e alla fine lui si è comunque fatto due anni di galera per plagio e quindi il finale è molto amaro un finale veramente toccante intenso ancora una volta a meglio si affida alla bravura di Maltese e la sensazione che si ha è appunto quella di una profonda tristezza tutta questa storia ha rovinato veramente delle vite tra l'altro Ettore è un ragazzo che ha passato le pene dell'inferno e spesso nel film viene detto dai suoi familiari che tutto ciò che fanno lo fanno per il suo bene perché lo amano eccetera e poi alla fine lo abbandonano perciò si capisce che la cosa veramente importante per quelle persone squallide malvagie era difendere il buon nome della famiglia nient'altro e quindi c'è questa sensazione molesta data dalla consapevolezza che quell'immagine che noi abbiamo visto all'inizio del film di queste due persone che sono alla festa dell'unità dove si proiettavano ancora i film dove si faceva cultura dove veniva mostrato per esempio il film quando volano le cecogne finché tra l'altro sovietico molto bello che invito tutti a vedere e quella spensieratezza quasi quella intimità quel senso di libertà che si respirava insomma all'inizio del film che veniva comunicato dal rapporto di questi due personaggi ecco che non ci sarà più almeno per loro due quell'atmosfera quei momenti non torneranno mai più il clima in Italia stava cambiando il film ce lo dice purtroppo ce lo dice un po' a parole ecco un'altra cosa che io un pochino contesto al film di Amelio è proprio questo il fatto che quando c'è il colloquio tra Braibanti e Scribani il giornalista dell'unità dice che il clima sta cambiando che tanti si stanno schierando dalla sua parte sarebbe stato secondo me interessante far vedere non solo la manifestazione dei giovani quindi il fatto che le nuove generazioni o comunque parte una parte cospicua delle nuove generazioni sta portando avanti con grande passione quel cambiamento che poi si tradurrà con le leggi sull'aborto il divorzio la liberazione sessuale eccetera ma sarebbe stato interessante vedere anche il mondo della cultura che si è mosso in difesa di Braibanti le prese di posizione di Moravia di Elsa Morante di Umberto Eco di Pasolini ovviamente tutto questo secondo me avrebbe dato ancora più contesto alla vicenda e avrebbe dato il senso anche di una intelligenza che comunque si rende conto della grande ingiustizia e si mobilita per difendere Braibanti e per combattere questa grande ingiustizia che gli viene fatta quindi un film che ha molti spunti interessanti un film che ha molti aspetti positivi ma presenta anche delle criticità che purtroppo gli tarpano un po' le ali questo è un po' il mio pensiero su una pellicola che comunque ribadisco ha anche dal punto di vista estetico penso che sia ben confezionato ben fotografato con un casting azzeccatissimo Luigi Locascio è stato senza dubbio un grande interprete come del resto anche gli altri attori lo ribadisco e niente fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo film spero di essere stato all'altezza del film che ho visto e niente commentate condividete iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti